Ehi là, in questa lezione ti mostrerò come interrompere gli algoritmi seguilinea visti nelle lezioni precedenti dopo una certa distanza o quando il robot arriva a un incrocio. Il professor Mattoncini! Gli algoritmi seguilinea visti finora vanno avanti all'infinito, ma in gara potresti volere seguire una linea per una certa distanza oppure far fermare il robot quando arriva a un incrocio. Come per le lezioni precedenti sul seguilinea utilizzeremo la struttura motrice Lego Spike di cui trovate le istruzioni sul sito Lego Education o nell'app Spike Prime. Aggiungeremo questo sensore rivolto verso il basso. Cominciamo con il primo caso che non richiede sensori aggiuntivi, quindi seguilinea per distanza. Ripartiamo dal programma del robot seguilinea proporzionale che abbiamo visto la volta scorsa. Per poterci fermare dopo che il robot ha percorso una certa distanza dovremo innanzitutto ricordare l'angolo del motore nel momento in cui il robot parte. Quindi utilizzeremo una tecnica simile a quella usata qualche lezione fa nella lezione sulle variabili e sulla memoria del robot. Creerò una nuova variabile che chiamerò distanza del robot e all'inizio, prima di cominciare col seguilinea, la porterò a zero. Quindi la reset la azzererò. Poi mi servirà un'altra variabile che è la variabile start dove andrò a salvare la posizione relativa di uno dei motori, quello che conta i gradi in senso positivo andando in avanti. Quindi dalla scheda altri motori, dall'estensione altri motori, prenderò il blocco reporter posizione relativa e salverò la posizione relativa del motore di quello che appunto conta in avanti nella variabile start. Adesso il ciclo per sempre dovremo sostituirlo con un ciclo che ci permette di uscire quando una certa condizione viene soddisfatta. Andiamo nella tavolozza controllo e prendo il ciclo ripeti fino a quando. Quindi questa parte di controllo la metterò nel ciclo ripeti fino a quando e addio, ciclo per sempre. Ecco qua. Qual è la condizione che si deve verificare per smettere di seguire la linea? Che la distanza percorsa dal robot sia maggiore della distanza che voglio io. Quindi qua mi serve un blocco di confronto che è un blocco che si trova tra gli operatori. Questo qua, maggiore di, che agli estremi appunta perché restituisce un valore logico vero o falso. Nel primo spazio io dovrò mettere in lettura la variabile distr, cioè la variabile che contiene la distanza percorsa dal robot in centimetri o in millimetri a seconda dell'unità che volete utilizzare. Qui dovrò mettere la distanza che voglio percorrere, ad esempio 300 mm, 30 cm. Una cosa che non devo dimenticare affatto è che in fondo, usciti dal ciclo, io devo fermare il movimento del robot altrimenti continuerebbe ad andare all'ultima velocità impostata. Qui adesso si pone il problema di calcolare quanta distanza ha fatto il robot, non in gradi, cioè non basta contare i gradi del motore. Quello è facile, lo sappiamo fare, basta usare questo blocco reporter. Dobbiamo calcolare quanti millimetri ha fatto il robot. Per fare questo dobbiamo rammentarci di una lezione precedente, quella in cui abbiamo usato la matematica per calcolare manovre precise per il robot e calcolare la distanza fatta. Se non te la ricordi puoi andarla a ripassare, metto la scheda e il link in descrizione. Qui quindi, mentre controllo la sterzata del robot per rimanere sulla linea, mi servirà di aggiornare la variabile distr, cioè la distanza fatta dal robot, con una formula matematica che abbiamo visto l'altra volta, che era la seguente. Intanto io calcolo la distanza in gradi dalla partenza con una sottrazione, una semplice sottrazione tra la posizione relativa, la prendo con il duplica, e l'angolo del motore prima della partenza. Quindi dalle variabili vado a prendere il valore in lettura della variabile start. Questo è l'angolo in gradi fatto dal motore dalla partenza del seguilinea. Ora io devo convertirla in millimetri. Nella lezione precedente abbiamo visto che basta calcolare un fattore di scala che trasforma i gradi in millimetri. Quindi mi servirà un'altra variabile che io l'altra volta chiamai kdist. kdist, richiamiamola così per coerenza, che contiene un numero magico che abbiamo stimato o matematicamente col metodo analitico o col metodo empirico che conterrà questo fattore di distanza. Nel caso del nostro robot, visto che le ruote sono quelle standard, di spike sarà 2,05 se mi voglio spostare di tot millimetri. 20,5 se mi sposto di tot centimetri. Per ora usiamo i millimetri. Per calcolare la distanza percorsa, quindi dovremo dividere questa differenza per questo fattore. Attenzione, non moltiplicare, ma dividere, perché io voglio passare dai gradi ai millimetri e non viceversa. Quindi adesso qui metterò la variabile kdist in lettura. Ecco fatto. Questo calcolo mi aggiorna a ogni iterazione del ciclo quant'è la distanza del robot in millimetri dall'avvio del seguilinea. E adesso proviamolo. Per rendere il programma ancora più leggibile e per favorire il riutilizzo del codice abbiamo imparato anche a creare dei blocchi personalizzati, che è una cosa particolarmente utile in gara perché potrai contare su un blocco collaudato e affidabile ogni volta che ti serve di seguire una linea per una certa distanza. Quindi andiamo qua ai miei blocchi, creiamo un nuovo blocco e lo chiamiamo seguilinea per distanza poi aggiungiamo il parametro della distanza che chiameremo dist e poi aggiungiamo l'unità di misura. Io vi consiglio i millimetri. Quindi compare il blocco cappello di definizione e adesso andiamo a sistemare il programma per spostare i blocchi giusti qui dentro. Io ci metterò di sicuro tutto questo pezzo qua però vi consiglierei di portare fuori il fattore di scala che potrebbe cambiare a seconda del robot che utilizzate cioè delle ruote che utilizzerete per il vostro robot. Mentre la velocità di movimento potete lasciarla di default sul 50% già all'interno del blocco personalizzato. Adesso qua io devo andare a chiamare la funzione cioè il mio blocco personalizzato del seguilinea specificando la distanza che voglio percorrere per esempio 300 mm. Qui aggiungo ma è del tutto opzionale un blocco che esplicitamente arresta ed esce dal programma altrimenti il programma che ha seguilinea terminato resta in esecuzione. Lo proveremo per varie distanze. Quello che andrò a modificare è semplicemente questo parametro qua. Questo valore scritto qua verrà passato tramite il parametro dist all'interno della funzione. Quindi una cosa che non mi devo dimenticare è di impostare questa distanza su dist. Il valore che io voglio verrà copiato in questo parametro dist che io posso trascinare qui per essere confrontato con la distanza percorsa effettivamente dal robot. Proviamolo con una distanza di 20 centimetri per esempio 200 millimetri Proviamolo con una distanza di mezzo metro 50 centimetri oppure 500 millimetri Se vi accorgete che il robot va oltre la distanza voluta è perché il programma è tutto impegnato a fare questi calcoli e potrebbe perdersi il momento in cui la distanza percorsa effettivamente supera la soglia cioè la distanza che volete voi. Per ovviare a questo problema la cosa migliore è accorciare di qualche centimetro la distanza da percorrere per esempio 2 centimetri in meno 1 centimetro in meno 280 millimetri E adesso vediamo come far seguire una linea al nostro robot fino a che non arriva un incrocio Per rilevare un incrocio la cosa più semplice è utilizzare un secondo sensore di colore Se non hai un secondo sensore di colore ne puoi trovare uno acquistando il set di espansione Lego Spike 4 5 6 8 1 oppure sfuso tramite un distributore italiano di Lego Education oppure sfuso su bricklink.com ti metto il link in descrizione Per far arrestare il robot all'incrocio potrò usare un altro sensore di colore rivolto verso il basso impostato sempre su lettura percentuale a leggere la linea ortogonale a quella che sto seguendo invece del blocco per sempre che adesso scollego utilizzerò un blocco ripeti fino a quando metterò i nostri soliti blocchi del seguilinea qui dentro butterò via il ciclo per sempre e attaccherò qui il ciclo ripeti fino a quando non dobbiamo dimenticarci di fermare il movimento del robot a ciclo finito ora vediamo qual è la condizione da mettere qua è una condizione logica come vediamo dagli estremi appuntiti di questo spazio di ingresso siccome devo monitorare un sensore andrò nella scheda sensori e troverò questo blocco che rispetto al reporter rotondo mi effettua un confronto quindi ritornerà il valore logico vero quando il sensore connesso sulla porta legge una luce riflessa minore del per esempio 20% questo valore lo dovete impostare in base alle letture sul campo se per esempio vado a vedere che il mio sensore sulla linea nera mi restituisce un 10-13% non mettete quella soglia ma mettete una soglia un po' più alta prevedete una certa tolleranza sotto il 20% potrà andare bene o sotto il 15% a seconda delle condizioni di illuminazione del campo su cui state lavorando per favorire il riutilizzo del codice creiamo un blocco personalizzato per seguire la linea fino a un incrocio crea un blocco personalizzato segui linea fino a incrocio vi faccio vedere anche che potrei specificare a quale velocità voglio seguire la linea a velocità e poi aggiungo un ingresso del e poi aggiungo un'etichetta percentuale quindi salvo comparirà il blocco definizione questo lo trascino qui per dopo adesso questo questa sequenza la trascino qui sotto qui chiamerò la funzione personalizzata per seguire la linea fino all'incrocio qui imposterò la mia velocità desiderata ad esempio 50% e questo valore verrà copiato nel parametro vel che adesso potrò mettere qua questo blocco bel è pronto lo potrete utilizzare nei vostri programmi proviamolo meraviglioso adesso sai come seguire una linea per una certa distanza o finché non trovi un incrocio se la lezione ti è piaciuta anche per non perdere l'abitudine porti il tasto mi piace se non sei già iscritto iscriviti al canale attiva le notifiche addirittura abbonati per avere accesso ai video in anteprima così non ti perderai il prossimo video in cui parleremo del sensore di misurazione inerziale integrato all'interno del mattoncino per gli amici giroscopio accelerometro resta giovane Gioca Modino ciao